bene cari amiche e cari amici siamo a Senigallia e sono esattamente le 20 e 25 siamo al quarto match fra Tumani Federico canotta rossa e Cirillo Manuel canotta blu Senigallia per Tumani e Cirillo della Fenix canotta azzurra molto molto alto Tumani sta incassando bene Cirillo siamo in una categoria di 61 kg 17 anni per Federico 17 per Tumani albita il signor solo di Clementi adesso si sono portati tutti due in guardia ortodossa vediamo Cirillo che sta incassando sta facendo il possibile per potersi avvicinare adesso bene ancora Cirillo ma le corde viene via viene via la testa Cirillo è pericolosa muovi sempre guardalo sempre guardalo sempre guardalo sempre muovi muovi dai bravo 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 frabelsi Passo bene è entrato, è entrato Manuel col destro, ancora quel sinistro. Non legare, non legare Manuel, fuori misura Federico, sta incazzando Manuel, lamenta, lamenta dei problemi al caschetto Manuel, trova anche il montante. Attenzione la testa, la testa è pericolosa. Il gancio largo ancora, il gancio largo di Federico, bene in uscita, uscita il gancio destro di Cirillo. Bellissima location, l'organizzazione della riunione è a cura della UPA di Econa e della pugilistica di Senigallia. All'angolo rosso, Tumani, Federico, all'angolo blu, Cirillo e Manuel della Fenix. All'angolo di Cirillo abbiamo visto Nelson Calcagnini. E all'angolo di Tumani, Federico, Polinori, Ricci. Buon primo tempo di Cirillo, sempre attaccato, Cirillo, deve accorciare la distanza, si prende tutti i rischi. Più elegante Tumani, lavora in linea retta. Adesso ancora quel sinistro di Cirillo, abbiamo Tumani, lo anticipa, l'ha anticipato Tumani. Ancora destro e sinistro di Cirillo, facendo delle buone cose Cirillo. Nella testa, sempre Cirillo. La testa, buono lo scambio, stanno legando, non deve legare il riferimento, salvo di chiamenzi. Va bene, va bene Marco, con posto, è sempre, via. Ancora, ancora, sulle mani, sulle mani. Bene, dai, pressalo. Un gancio sinistro, il Cirillo, domani, vediamo, vediamo. Va bene, muovi, 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 muovi sempre. Ha fatto buone cose, Cirillo, domani, deve fare qualcosina in più domani. Stop, attenzione, stop. Non deve legare, gli dà un richiamo, un richiamo ufficiale. Si riparte, siamo alla terza ed ultimo tempo di questo bel match. Alla fine della seconda ripresa, Cirillo ha avuto un richiamo ufficiale. Vediamo adesso Tumani, che deve fare qualcosina in più. Adesso viene ancora Cirillo. Troppo, troppo, ricordati, troppo. Bene, bravo. Vai tranquillo. Bene, bene, bene adesso Federico, ancora Cirillo. Cirillo, fuori misura Tumani, deve lavorare con il jab, trovare la misura e partire con il destro, ma non gli partono i colpi a Tumani. Sivola, scivola, scivola Tumani, che il caschetto fosse bisogna rastringerglielo, ma... Bene, tu hai già posato un sinistro, ancora Tumani. Vai, 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 vai. Gancho, destro, gancho, quando ce l'hai? Bravo. Gancho il destro, gancho il destro. È entrato Federico, la torta via le corde. Sentiamo il pubblico, non devi trattenere, Cirillo, Manuel, se lo porta le corde all'angolo, vieni via. Attenzione, non vorrei che partisse un altro richiamo, ne ha già preso uno. Non c'è, dai, c'è, dai, c'è! Dai, c'è, dai, c'è, dai, c'è, dai! Dai, sopra sotto, bravo! Il calco anche con il sinistro, ancora, Cirillo, bene, Roberto, adesso lo insegue, lo insegue la porta lì alle corde, buono il momento di Federico. Il momento di Federico, se sono qua sotto la mia postazione, lo inquadra, partono i colpi, la porta regazzi. bravo Federico, bravo Manuel piedeferno viene via e Cirillo che ha faticato però riesce ancora a portare in colpo il gancio il gancio volante ancora bene, quello è il gancio destro di Cirillo attenzione colpisci bene con il gantone ancora Cirillo è stato un bel match questo qua termina il match vince ai punti al rosso che è Federico un bel applauso a Cirillo Marlowe Marlowe Autore dei sorrisi